Ciao, oggi voglio approfondire il discorso che riguarda la lettera di contatto nel momento in cui si è interessati a approfondire il discorso su una casa. Quindi è differente questo passaggio, cioè il next step rispetto alla lettera di contatto di cui ho parlato in qualche video fa. Cioè la lettera di contatto con l'agente immobiliare, chi applica il metodo compro casa, ha un proprio procedimento ben definito per differenziarsi dagli altri. Mentre una volta che si è usciti dalla visita di la casa, si è tornati a casa, in ufficio dove vuoi, e hai riordinato i tuoi appunti, aggiornato la classifica e i tuoi giudizi, magari vedendo la classifica ti accorgi che quella casa potrebbe essere papabile per una proposta d'acquisto. Cosa ti manca? Ti manca tutta una serie di informazioni, quindi ti manca quel processo di approfondimento nelle informazioni per essere certo di andare poi nella fase successiva che è la proposta. Quindi di solito cosa fanno gli altri, quelli che non applicano il metodo compro casa? Di solito gli altri mandano una mail o il telefono all'agente immobiliare e avvertono che hanno intenzione di andare in agenzia a parlarne. La domanda è a parlarne di che? Se uno non sa di cosa deve parlare, se uno non ha già ben definito il piano da seguire per approfondire il discorso, mi viene da pensare che è difficile che vada ad approfondire nella maniera giusta. Approfondire per chi applica il metodo compro casa è già dal contatto di questa mail, non farei una telefonata, o meglio, è capitato ultimamente che l'abbiamo fatta una telefonata e ha avuto i suoi riscontri positivi. Quindi adesso ti racconto, questo contatto avviene via mail dove si avverte che si vuole andare, quindi vuole una richiesta d'appuntamento per andare ad approfondire il discorso, ma si specifica un elenco di documentazione e di informazioni che uno vuole trovare in agenzia al giorno dell'appuntamento. Quindi sì, vengo in agenzia per approfondire il discorso, ma già ti dico cosa voglio trovare. Qualche giorno fa, in una consulenza online, i signori che stavano dall'altra parte del whatsapp del computer, di Siena erano, hanno condiviso con me l'audio whatsapp della registrazione della telefonata fatta con la gente immobiliare. Hanno chiamato l'agente immobiliare e hanno avvertito il titolare, quindi il funzionario dell'agente immobiliare, che sarebbe arrivata una loro mail con una richiesta d'appuntamento e una richiesta di informazioni. Perché questo? Questo ha fatto sì che il funzionario, quindi il titolare dell'agenzia immobiliare, fosse andato proprio lui a gestire questa mail. Perché? Il pro qual è? Il pro è che probabilmente magari il titolare dell'agenzia immobiliare, il funzionario, ha preso accordi, il mandato quindi alla vendita di questa casa, conosce la proprietà e conosce il maggior numero di informazioni rispetto magari al ragazzo agente immobiliare al quale è stata delegata la vendita. Quindi noi che vogliamo? Noi vogliamo andare sì in agenzia immobiliare a parlare dell'immobile, a fare domande perché dopo la nostra visita sicuramente abbiamo tante domande da fare e magari andando in agenzia ci ritroviamo davanti a un agente immobiliare che non è colui il quale ha rapporto diretto con la proprietà. Quindi non ha quella libertà di darci informazioni, soprattutto darci risposte certe. Finiremmo per fare un appuntamento dove prende appunti e ci dice per questo vi faccio sapere, questo vi devo approfondire. Mentre parlare con chi ha direttamente il contatto con la proprietà o con il funzionario dell'agenzia immobiliare, il titolare dell'agenzia immobiliare che ha potere decisionale in merito a quello immobile e sa e è quello il quale che in agenzia ha il maggior numero di informazioni è meglio. Direi obbligatorio. Quindi si manda questa mail di contatto richiesta appuntamento ma non mi dare l'appuntamento se io quando vengo non trovo queste cose. Quindi quali possono essere? Ti riassumo un attimino anche se li trovi sul libro e sul sito, sul blog, diciamo c'è un post. Comunque mandami una mail su info.luigilardi.it ti mando la mail che di solito mandiamo noi quando facciamo consulenza sia personale che online. Comunque te li dico, te li accenno al volo. Possono essere il titolo di proprietà e se l'immobile, come è capitato l'altro giorno, è il titolo di proprietà dell'immobile presente in agenzia è una denuncia di successione, conviene sempre chiedere l'atto d'acquisto del defunto. Quindi come titolo di proprietà di provenienza è meglio andare a guardare se la denuncia di successione è stata fatta e se le volture catastali sono fatte correttamente ma è meglio andare a vedere, perché le informazioni le troviamo su un roggito notarile, quindi l'atto con il quale il defunto ha acquistato l'immobile. La planimetria catastale, mi auguro che tu l'abbia utilizzata già per fare la visita e quindi tu l'abbia già ricevuta. La visura catastale la vuoi vedere per andare a confrontare le identificativi catastali, foglio particello subalterno, l'intestazione, la toponomastica, di che anno è, le informazioni urbanistiche che le puoi trovare sia sull'atto di compravendita notarile, non sulla denuncia di successione, che documentazione attestante, lavori o ristrutturazioni fatte in epoche recenti o qualcosa, l'agibilità, certificato di agibilità o una dichiarazione che esiste l'agibilità con un riferimento, a questo certificato o proprio magari in alcuni casi proprio il certificato di agibilità. Comunque se mi mandi una mail su info.luigilardi.it ti mando io un elenco di documenti, anche il prestampato, diciamo la bozza di come porti a questo contatto. Se non l'hai già fatto puoi prenotarti sul sito a luigilardi.it una consulenza gratuita, quindi se non ti senti pronto a questo tipo di contatto che è differente da tutti i contatti che fanno gli altri, ti aiuto e in un'ora ce la facciamo a gestire questo contatto e ce la facciamo anche a fare la telefonata e inviarlo. Questo è già accaduto. posso consigliarti di leggere il libro, ma quello che ti consiglio è di differenziarti rispetto agli altri, perché? Non perché vogliamo fare i fighi e vogliamo complicare la situazione, ingarbugliare la situazione, ma chi applica il metodo compro casa è colui che ha capito che comprare una casa non permette di commettere errori e non puoi permetterti soprattutto di dire dopo aver commesso un errore e averci rimesso qualche soldino io non lo sapevo. Io non lo sapevo non te lo puoi permettere perché ci sono errori in cui non è possibile tornare indietro e commettere un errore in media nell'acquistare una casa costa dai 5-6 mila fino a non si sa quanto euro. Chi commette gli errori è proprio chi agisce con superficialità, chi si affida alla buona sorte, chi spera che un appuntamento come questo spera di trovare tutte le informazioni. Vai a questo appuntamento, vacci preparato con la tua classifica, con i tuoi giudizi, con le tue note, fai tutte le domande che devi fare e le risposte vale a cercare nei documenti giusti. Non aspettare che ti diano risposte. Se è possibile cercati le risposte e tienile per te. Quando vedi qualcosa che non va lo tieni per te e ci ragioni su. Ci vediamo al prossimo e adesso vado al lavoro. Ciao.